Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Questo è un video un po' particolare che magari non interesserà a tutti quanti perché se non parlo di bonus, reddito di cittadinanza, narspi, pagamenti nessuno si guarda i video però siccome che fa parte del programma vario del mio canale vi aggiorno su quello che appunto ha detto l'agenzia delle entrate per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi. Prima che mi dimentico ricordatevi di seguirmi su Instagram, scaricate, installate l'applicazione e poi mi cercate anche su Instagram. Partiamo subito con il video. Il 28 di febbraio l'agenzia delle entrate ha pubblicato tutte le istruzioni per quanto riguarda i modelli dichiarativi dell'anno 2023 all'anno d'imposta 2022. Diciamo subito chi può, chi deve presentare, chi è obbligato a inviare la dichiarazione dei redditi. Sono obbligati a presentare alla dichiarazione dei redditi tutte queste categorie di persone. Primo tutti quelli che hanno conseguito dei redditi nel 2022 e non hanno dei casi di esonero che vabbè non sto a elencarvi ma sono elencati nelle istruzioni del modello unico. E poi seconda categoria tutti quelli che sono obbligati ad avere le scritture contabili che in generale, in generale, solitamente sono tutti i titolari di partita IVA. Anche nel caso non abbiano avuto dei redditi. Attenzione! Quando si presenta la scadenza del termine d'invio dal 2 maggio al 30 giugno 2023 se la presentazione viene fatta in forma cartacea tramite un ufficio postale oppure il 30 di novembre, quindi scrivetevi questa dal 30 di novembre, se la presentazione viene fatta telematicamente. Anche qua potete rivolgervi a un CAF, un patronato oppure a un consulente abilitato all'invio del telematico delle dichiarazioni dei redditi. Quest'anno ci sono delle novità che adesso vi elenco molto brevemente. Ovviamente vabbè se volete maggiori dettagli me lo fate poi sapere con un commento sotto al video. Primo c'è la modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote. Quindi sono state ridotte, sapevamo già, però ovviamente quest'anno le hanno fatte. Sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%. C'è stata la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente. Poi terzo c'è stata la rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione. Poi c'è il credito di imposta per attività fisica adattata. Vi spiego brevemente. Viene riconosciuto un credito di imposta, quindi non gli danno proprio soldi fisici, ma è un credito di imposta per tutte le spese sostenute per l'attività fisica adattata a tutti quelli che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite appunto il servizio messo a disposizione proprio sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Poi il sesto viene riconosciuto un credito di imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy. Settima novità c'è la detrazione al 75% delle spese sostenute che vanno dal 1 di gennaio 2022, quindi dall'anno scorso, per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ottavo punto, quello che magari forse interessa di più a tutti quanti, c'è la riduzione della detrazione al 60% di tutte le spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata. Molto bene, molto bene. Come vi ho detto, se volete maggiori informazioni su tutte queste, diciamo, novità che sono 8, che vi ho elencato appena adesso, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti e magari ve lo aggiungo in qualche altro video, oppure vi rispondo, insomma, in qualche modo ci organizziamo. Volevo anche dirvi, prima di chiudere, che siccome che ricevo tantissimi messaggi sotto i video, sono veramente, veramente tanti, vi ricordo che se vi abbonate, qui sotto al canale trovate il tasto abbonati, avete la possibilità di avere una risposta prioritaria da parte mia. Siccome che ricevo tantissimi messaggi, non riesco a stare dietro a tutti quanti, invece con il tasto abbonati, ovviamente chi è abbonato, i messaggi degli abbonati mi arrivano molto prima, mi vengono messi un po' più in alto, quindi io ne divido subito e ovviamente rispondo, rispondo, vabbè, per logica, rispondo a chi è abbonato e a chi sostiene al mio canale. Nonché gli altri non rispondono, però ovviamente loro hanno la priorità assoluta. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, qui sotto, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre e solo sull'unico canale originale di YouTube. Il mio vi aspetto. Ciao!